Eccomi, un'altra giornata che comincia, e si va! Sono un muratore rumeno, un dettaiolo che alla presa vi pizzeno Un manager rampante a Shanghai, quattro ore di un mattino che non finisce mai Sono un'impiegata di Latina, un fornaio col suo pane ogni mattina In fabbrica o in ufficio mi troverai, otto ore vado a lavorare Mi sveglio con una particolare sensazione, come se per ogni compito, mestiere, occupazione Io avessi una naturale inclinazione, posso fare il lavoro di un milione di persone Con il mio futuro io sono alle prese, ma riuscirò ad arrivare a fine mese Come tutti col futuro io sono alle prese, dico grazie che ogni giorno rende grande il mio paese Il lavoro è la mia dignità, e mi nobilità non mi debilita Sono un patrimonio dell'umanità, perché sono indispensabili le mie capacità Sono un muratore rumeno, un dettaiolo che alla presa vi pizzeno Un manager rampante a Shanghai, quattro ore di un mattino che non finisce mai Sono una padante ucraina, un fornaio col suo pane ogni mattina In fabbrica o in ufficio mi troverai, otto ore vado a lavorare È quasi ora ormai